è originaria di Baia e Latina la giovane vincitrice della versione svizzera di ballando con le stelle nata da papà Giuseppe di Baia e Latina nel casertano imprenditore di successo in Svizzera e da mamma Erina di Como si chiama Flavia Landolfi e vive in una splendida cittadina Collingen nel cantone tedesco nella sua bellissima casa fra i tantissimi trofei collezionati nella sua lunga attività nel ballo il suo sogno da piccolissima come poi ci dice nell'intervista che abbiamo appena realizzato ma chi è Flavia Landolfi? Sono Flavia Landolfi origine italiana il mio papà Giuseppe Landolfi viene di Baia e Latina e la mia mamma Erina Morini di Como Tu sei nata in Svizzera? Sono nata in Svizzera nel 95 e viviamo a Köliken, cantone Argovia, Svizzera interna. Che rapporto hai con l'Italia? Sono molto legata all'Italia, specialmente Baia e Latina. Il mio rapporto con l'Italia è molto stretto. Sono nata italiana, ho il sangue italiano e così mi sento ogni giorno come una italiana. Quando hai deciso di partecipare a ballando con le stelle, diciamo nella versione svizzera? Quando avevo sei anni ho visto in televisione ballando con le stelle e da là era sempre il mio sogno di ballare e così ho cominciato. Pensavi di poter arrivare a vincere una competizione così importante? Non pensavo mai di partecipare a una trasmissione così grande e non me ne immaginavo mai che potrei vincere. È stata una grandissima emozione. Ora cosa cambia per te questa vittoria o meglio cosa ti lascia? Questa vittoria mi dà tanta fiducia e sicurezza in me stessa. Il tuo sogno in tv quale sarà? Mi potrei immaginare fare televisione pure in Italia, sarebbe un'altra soddisfazione. È tutto, Lorenzo Applauso, per casertasera.it.